buongiorno a tutti sono andrea forzoni sono consigliere nazionale della fida e tesoriere nazionale preside dell'istituto mary mount a roma che è una scuola che va dall'infanzia al liceo abbiamo aperto liceo tre anni fa quindi abbiamo solo fino al terzo liceo una scuola particolare perché una scuola completamente bilingue la metà dei miei docenti e del mio staff sono madrelingua inglesi a noi abbiamo implementato la questa piattaforma che utilizziamo g suite l'abbiamo implementata a dicembre del 2012 e cominciata ad utilizzare da gennaio del 2013 la utilizzavamo per all'inizio con per il nostro staff con google drive i docenti staff che potevano lavorare sia da casa che da scuola stessa cosa poi piano piano con i ragazzi in particolare utilizzata era già utilizzata con i ragazzi della scuola superiore e con i ragazzi che fossero lungodegenti o che avessero delle fossero all'estero in altri posti d'italia per lunghi periodi quindi diciamo i docenti erano già formati questo ha permesso già formati dal nostro etico ordinator questo ha permesso di partire immediatamente in ogni ordine grado seppur con equilibrio e gradualità fin dall'inizio dal primo lunedì dal 9 marzo con la chiusura è stata il quattro abbiamo siamo partiti con caricare il materiale video audio registrazioni e con le live quindi con le elezioni sincrone con la scuola media e il liceo quindi con tutta la secondaria per dare il tempo infanzia e primaria ai genitori in particolare ma a tutti di organizzarsi chiaramente non essendo i bambini autonomi dalla seconda settimana siamo abbiamo cominciato con tutti quanti è stata organizzata con il liceo in orario mantenendo praticamente l'orario regolare semplicemente con blocchi di dieci minuti più corti dal punto di vista orario per poter non far stare i ragazzi costantemente di fronte al computer tutta la mattina la scuola media aveva quattro ore la mattina e una il pomeriggio stessa cosa più o meno le elementari qua all'inizio qualche un pochino di meno poi si è andato aumentando l'infanzia invece non più di un'ora e mezza al giorno perché chiaramente non non potevi fare partenere i bambini molto di più davanti al computer in momenti diversi ovviamente della giornata con degli scarti molto più lunghi siamo riusciti ad attivare la didattica come era ovvio che potesse essere avendo già questo tipo di esperienza in tutte le discipline da religione fino a inglese che per noi è un po il fulcro perché molte materie sono in lingua inglese nella nostra scuola e e abbiamo non soltanto fa quindi ecco tante in inglese ma anche di tante discipline inglese siamo riusciti a coprirle ovviamente tutte però non al cento per cento orario come naturale che fosse nella didattica a distanza nel pomeriggio c'erano anche situazioni di extra support nelle varie discipline in particolare italiano matematica e inglese e a tutti i livelli dalla primaria in su c'era un one to one che è stato fatto nei casi non solo dei bisogni educativi speciali ma anche in situazioni che potevano essere sorte nel frattempo di difficoltà e accanto a questo abbiamo organizzato una serie di eventi e avendo la possibilità di farlo con il mondo anglosassone quindi con collegamenti dagli stati uniti da una volta dall'antartide da altri paesi del mondo in particolare con anche con le nostre scuole degli altri paesi dell'america latina all'america del nord alla francia eccetera e abbiamo invitato anche persone che potessero rappresentare per i nostri studenti un momento di svago un momento di differente quindi da allenatore della nazionale di calcio mancini a giornalisti come mentana autori il mondo dello spettacolo come pannofino o come per esempio mogol eccetera in maniera tale che ragazze avessero sia un'esperienza di altro tipo di altro genere che di anche un momento un momento diverso momento di svago perché quello era importante oltre a fare didattica era importante che ci fosse comunità ma che ci fosse anche una crescita da altri punti di vista e gli interventi con le altre scuole erano delle scuole del network quindi scambi con i nostri ragazzi di scambi di esperienza eccetera questo è quello che abbiamo fatto per il futuro ovviamente continueremo ancora a sfruttare molte cose della didattica a distanza come facevamo prima che faremo utilizzeremo ancora anzi utilizzeremo come abbiamo fatto adesso per i corsi di recupero che facevamo online abbiamo deciso di farli anche il prossimo anno online i colloqui con i genitori come l'abbiamo fatti quest'anno li faremo anche il prossimo anno online noi utilizziamo molto didattica all'aperto nei grandi giardini della nostra scuola dove possiamo facevamo e facciamo spesso molte ore di lezioni in aree sensoriali o in zone adatte quindi continueremo a fare questo perché vogliamo fare scuola lo vogliamo fare nella didattica tradizionale per certi versi ma anche in una didattica innovativa in cui da tanti anni come in tutte le nostre scuole cerchiamo di procedere costantemente buona giornata a tutti